appuntamento con la storia per le due compagini di calcio a 5 della nostra città infatti per la prima volta in assoluto sia il futsal bitonto che la polisportiva 5 bitonto parteciperanno alle final di coppa italia pugliese di calcio a 5 in programma dal 2 al 6 gennaio al palapeppino todisco di cisternino nel brindisino si tratta di uno degli eventi sportivi più attesi nel panorama regionale che richiama il meglio del calcio a 5 del tacco dello stivale e la città di bitonto non solo partecipa per la prima volta ma lo fa con entrambe le sue compagini i ragazzi del futsal bitonto affronteranno la final eight di serie c1 e apriranno le danze col quarto di finale già giovedì 2 gennaio alle 20 e 30 contro i padroni di casa dell'itria si rinnoverà dunque anche in coppa italia il duelo a distanza in campionato con i neroverdi di mister pietro di bari secondi alle spalle della corazzata itria che sa solo vincere con 5 lunghezze di distacco in un torneo praticamente dominato dalle due squadre in caso di qualificazione i bitontini affronteranno in semifinale sabato 4 gennaio alle 18 una tra futsal brindisi e aradeo calcio a 5 la finale maschile e in programma il giorno dell'epifania alle ore 20 dovranno attendere domenica 5 gennaio invece le ragazze della polisportiva 5 bitonto per le donne guidate dal duo verriello danisi final four per la serie c e semifinale in programma alle 15 contro il capo di leuca in caso di vittoria finalissima regionale il 6 gennaio alle 16 contro la vincente dell'altra semifinale che vedrà opposte new cup 74 san michele e black and white leverano insomma la speranza è che il cisternino possa colorarsi di nero verde all'alba del 2020